Abbiamo avuto dimostrazione che ci sono dei grandissimi dubbi su questa gestione, per cui da parte nostra sarebbe molto importante come segnale che ci fosse la revoca. Senta, ha letto la lettera di Luciano Benetton? Dice, non mettetemi nel banco degli imputati perché io sono un attore esclusivamente finanziario, non ho compiti operativi. Secondo me un azionista si deve interrogare da dove provengono i suoi proventi. Il governo adesso deve decidere se ritirare o meno la concessione ad autostrada. Ecco, in questi giorni il patron Luciano Benetton ha scritto una lettera in cui dice nessun componente della famiglia Benetton ha mai gestito autostrade, solo azionista al 30% di Atlantia che a sua volta controlla autostrade. Vero, ma proprio Atlantia in questi ultimi dieci anni ha incassato oltre 5 miliardi di euro di dividendi provenienti da autostrade, fatte anche risparmiando sulle manutenzioni. Le notizie di questi giorni scrive Benetton su omessi controlli, su sensori guasti, non rinnovati o falsi report. ci scrive Benetton, ci colpiscono e sorprendono in modo grave come famiglia. Ci riteniamo parte l'esa. Ora, è vero, rispettabilissimo, ma cosa dire dei familiari dei 43 morti del Ponte Morandi o quelli dei 40 morti sul viadotto Acqualunga. Poi Benetton se la prende anche con qualche mela marcia, ce ne sono ovunque, dice che è all'interno della sua struttura. Ma i manager, chi è che li sceglie?